Mi sa che è la prima volta che io faccio un video nella mia vita sui social, però mi sono rotto. È corso sui social attraverso un video cliccato e visualizzato centinaia di volte lo sfogo del ristoratore pesarese Rosario Catone che ieri nella prima giornata di ripresa soltanto all'aperto per i ristoranti ha ricevuto un controllo della polizia presso la propria attività in seguito a delle telefonate ricevute dai vigili per segnalare l'allestimento esterno del locale. Telefonate secondo il ristoratore effettuate dai condomini della zona per lamentare il passaggio troppo ristretto sotto il porticato di Piazzale Europa in Baia Flaminia a causa della presenza di sedie e tavolini appartenenti al locale. Come avete visto un po' con il video di ieri non pensavo che aveva comunque tanto scalpore e alla fine avessero contento comunque detto solo verità e niente è successo che come vedete in questo locale ho fatto dei paramenti e niente quindi tantamente i condomini si sono lamentati e che loro dicono che non c'è il passaggio però ti ripeto il passaggio come vedi c'è ok perché ho fatto un giochino che posso smontare e la sera quando c'è tanto vento ricoprire perché senza di questi come dicevo chi viene a mangiare? Il primo maggio piove fa freddo quindi ci sono tutte queste cose tutte queste incognite comunque anche per organizzare il nostro lavoro è difficile metterlo in preventivo e adesso in questo momento con fortuna come vedete ci sono anche qualche persona che si è fermata anche a mangiare perché forse c'è il paravento perché se non c'è neanche questo in questo momento investire quasi 6.000 euro posso garantirti che non era proprio il momento giusto. C'ho una domanda c'ho un permesso una domanda che faccio poi ogni anno il solo pubblico basta che dice quello che dice la legge sedie e tavolini io rispetto a tanti altri comunque ho una grande piazza il passaggio qui da me c'è infatti io non ho il problema infatti le autorizzazioni me le hanno rilasciate perché da me qui il discorso del passaggio non esiste. Sta cattivera questi condomini o chi ha chiamato adesso che mi fa aprire di che tutto vedere subito comunque che vengono dei controlli veramente ieri mi ha fatto vomitare. Le forze dell'ordine assolutamente non ce l'ho poi ti ripeto che è venuto proprio anche ieri le due persone che sono venuti si sono comportati no benissimo super professionali perché anzi ridevamo guarda ridevamo perché anche loro solamente fanno il loro lavoro hanno avuto una chiamata e devono intervenire sono venuti hanno visto si siamo messi a ridere a ridere nel senso che anche loro sanno il buon senso capiscono le difficoltà che abbiamo avuto che avremmo e chi lo sa ancora fino a quanto ci riprenderemo. Deboli le prime due giornate di riapertura ha affermato il ristoratore probabilmente anche a causa del maltempo. Adesso per il primo di maggio si sta muovendo per il primo di maggio comunque dai un po' di prenotati già si stanno muovendo c'è qualcosa un po' sempre da sport ma ti ripeto l'asporto è stata una sopravvivenza proprio assolutamente. Il sfogo di questo video è stato soprattutto perché veramente veramente ragazzi noi non sapete cosa abbiamo passato anche otto mesi momenti di difficoltà. Queste cattiverie gratuiti non esistono dai.